Benvenuti nel mondo degli orologi Nivre. Fino al 1936, Nivre faceva ancora parte del famoso marchio Marvin, ma già allora si distingueva per la sua eleganza e la sua raffinatezza. La sua collezione di orologi era considerata tra le più pregiate e ambite del mercato. Tuttavia, negli anni 70, con la crisi del quarzo, sia Nivre che Marvin scomparvero improvvisamente dalle scene. Ma la storia di Nivre non finisce qui. Infatti, nel 1993, grazie alla passione e all'impegno di Gert e Getta Hoffa di Zarbrocken, Nivre tornò a vivere. Con la loro determinazione e la loro abilità, i due riuscirono a far rinascere il marchio, riproponendo i suoi orologi di alta qualità e stile inconfondibile. Oggi, Nivre è ancora considerato uno dei marchi di orologi più prestigiosi e amati al mondo, grazie alla sua storia affascinante e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Il marchio Nivre si è rapidamente affermato come un produttore di orologi di alta qualità e precisione, con un'attenzione particolare ai dettagli e al design. Gli orologi Nivre sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, oro, titanio e pelle pregiata, e sono dotati di movimenti svizzeri automatici di alta precisione, perfetti per garantire la massima affidabilità dell'orologio. La gamma di orologi Nivre si compone di modelli di orologi classici, sportivi, eleganti, adatti a diverse occasioni e stili. L'attenzione ai dettagli e alla qualità artigianale rendono gli orologi Nivre unici e raffinati, perfetti per chi cerca un orologio d'eccellenza. La qualità dei materiali utilizzati e la precisione dei movimenti automatici svizzeri garantiscono la massima affidabilità e durata degli orologi Nivre.